la juventus ha ufficialmente presentato il ricorso al coni c'è grande speranza da parte del club bianconero per un ricorso presentato dai legali bianconeri che potrebbe davvero cambiare le carte in tavola attenzione perché sulla vicenda è tornato a parlare ha parlato appunto di questo ricorso il ministro dello sport a body che ha parlato proprio della juventus del ricorso al coni scopriamo di scoprire cerchiamo di capire nel dettaglio cosa è successo cosa sta succedendo perché la juventus è così fiduciosa perché la juventus ha così tante speranze che venga accolto tutto questo ricorso e quindi poter riavere eventualmente 15 punti penalizzazione scopriamolo oggi qui su fcm sport a proposito fcm sport beh vi ricordo qui troverete costanti aggiornamenti sulla vicenda juventus cercheremo sempre il dettaglio di darvi informazioni concrete e reali sulla vicenda senza fare voli pindarici senza inventare roba fantasiosa perché è chiaro che su web molto spesso si legge davvero di tutto si legge di gente che sa delle cose che altri non sanno quando in realtà probabilmente basterebbe leggere basterebbe informarsi ecco diffidate da quelli che vi dico tutto io perché so tutto io perché molto spesso dietro perché me l'ha detto un tizio perché me l'ha detto un caio francamente io vi consiglio di informarvi come giusto che sia e dare priorità a chi fondamentalmente pensate voi almeno questa è la speranza di che possa avere diciamo non delle fonti attendibili che quando si parla di fonti ma delle conoscenze quindi capire chi fondamentalmente può avere gli strumenti per potervi informare sulla vicenda oppure no io spero di poterlo fare fondamentalmente questa è una materia che mi vede anche soltanto un minimo preparato in virtù di una lo sapete io sono anni fa ho conseguito una laurea in giurisprudenza poi mi sono fiondato sul giornalismo e sul giornalismo sportivo che era la mia grande passione però una base giuridica c'è ecco per potervi dare qualche piccolo qualche piccola informazione ma così senza fare qua non ci sono né professori e né professoroni qua siamo su fcm sport e cerchiamo semplicemente di darvi un'informazione più trasparente possibile però affidatevi alle persone giuste senza appunto dare credito a gente che magari sul web sta lì solo per chiacchierare è un consiglio poi chiaramente fate ciò che volete ecco abbiamo parlato di trasparenza la trasparenza e quindi questo per arrivare a che cosa al fatto che magari se vi va iscrivetevi al canale attivate la campanella supportateci con un semplice like allora abbiamo parlato di trasparenza trasparenza che chiesta anche dal ministro abodi cosa mi aspetto dal procedimento è stato chiesto che ognuno faccia la sua parte e soprattutto che sia un percorso trasparente parole che sembrano banali fondamentalmente però che anche qui secondo me c'è una grande un grande valore attorno a queste parole perché l'abbiamo detto tante volte queste sono parole non così tanto banali perché nella prima parte quando l'avendo stata condannata a 15 punti con una sanzione così pesante io credo che sia avvenuto meno la trasparenza trasparenza che poi è stata ulteriormente messa in discussione quando quando sono cominciate uscire i video dei vari santoriello e così via ossia si è messa in discussione la legittimità stessa della della giustizia sportiva la juventus sappiamo che di recente è stata più volte diciamo non giudicata ma si è parlato molto spesso di juventus anche lo stesso ministro abodi ne aveva parlato aveva parlato di rispetto per le sentenze delle valutazioni che verranno fatte rispetto dell'indipendenza dei giudici rispetto di chi paga tutto e magari non compra un calciatore quindi magari vede i suoi obiettivi di campionato pregiudicati per una scelta sana quindi queste sono parole diciamo che sembravano andare contro la juventus ma aveva anche parlato sul caso santoriello dicendo ho visto ascoltato e segnalato la vicenda santoriello nel rispetto dei ruoli per le opportune verifiche e valutazioni per ora penso che sia corretto fermarmi qua e poi aveva parlato anche del meno 15 dicendo è molto probabile che io debba proporre un intervento per il miglioramento della trasparenza l'efficienza della giustizia sportiva e dei meglio di gestione professionistico si era anche parlato del valore di questa giustizia sportiva e si era parlato anche della credibilità del processo sportivo un processo che l'abbiamo detto tante tante volte da priorità alla velocità la rapidità per la per dare in qualche modo certezza ai campionati quando certezza lo stiamo vedendo ce n'è ben poca per quanto riguarda proprio i per quanto riguarda i campionati è una juventus quindi che o meglio viene richiesta trasparenza però fino ad ora veramente trasparenza ne abbiamo vista veramente poca perché però la juventus è fiduciosa da questo punto di vista perché la juventus ha visto una sorta di onda di giudizio diversa rispetto a qualche mese fa perché ora forse le carte sono un po più chiare perché oggi tutti conosciamo meglio la situazione perché oggi tutti sappiamo effettivamente come sono andate le cose e perché sostanzialmente e questa è una cosa che si dice dicono in molti la sentenza e quindi le motivazioni della sentenza che ha condannato l'entus almeno 15 è abbastanza approssimativa partiamo per esempio dalla dalla dal perché e sono stati dati 15 punti ecco non c'è una motivazione non c'è stata una motivazione dei me del meno 15 e ricordiamo sempre che la procura va chiesto una una sanzione di meno 9 una sanzione di 9 punti di penalizzazione e ripeto come dico molto spesso quando si dà la penalizzazione di 9 punti ecco si cerca di dare il massimo possibile magari si trova una una via di mezzo e quindi magari non si danno 9 ma si hanno 4 si hanno 5 ecco qua se ne date addirittura di più non ci dimentichiamo che uno dei punti più importanti del ricorso della juventus è la mancanza di una norma o meglio la mancanza della legge che possa disciplinare la materia delle della proprio delle plus valenze il punto centrale del ricorso della juventus vertevolo sul fatto che secondo il club bianconero manca una legge per cui la juventus è stata condannata ed era proprio la corte federale aver detto questo quando sono stati appunto assolti tutti i soggetti e delle 27 marzo 22 perché era stata denunciata un'assenza normativa un vuoto normativo e quindi la mancanza di parametri norma normativamente sanciti per attribuire un valore ai diritti alle prestazioni sportive di un calciatore inoltre la juventus parla di fatti non ci sono fatti nuovi cioè per poter riaprire il caso dovrebbero esserci dei fatti nuovi i fatti nuovi quali sono le intercettazioni e sappiamo bene che le intercettazioni hanno il valore che hanno io al telefono posso dire tante robe ma non per questo siano sono assolutamente vere tra l'altro una juventus che parla di un cambio di del capo di imputazione con una sentenza di condanna non correlata all'atto di deferimento e poi si parla anche del sistema un sistema fraudolento il ricorso al compito di smontare il tema del vantaggio sportivo dov'è il vantaggio smortivo in virtù del fatto che lei il tri è i ricavi della società dal 2018 al 2021 ammontano a 1,675 miliardi 1,675 miliardi miliardi di euro e le plusvalenze contestate invece hanno a che fare con 60 milioni di euro tradotto rappresentano solo il 3,6 per cento del totale dei ricavi questo è il punto da cui parte fondamentalmente la juventus ed è per questo che c'è molta come dire positività possiamo dire così cioè c'è una grossa speranza staremo a vedere io voglio sapere che pensate voi qui sotto nei commenti in alto le parole del ministro avodi ma in generale di quello che è il processo sulla juventus se secondo voi ci sono buone speranze vedere una juventus assolta o meglio se c'è una juventus la possibilità di riavere i 15 punti che poi fondamentalmente è quello che spera la juventus ditemi la vostra qui sotto nei commenti grazie a tutti